Siamo in via Tuminelli dove siamo stati chiamati dal presidente dell'Anglat Giuseppe Palermo perché qui davanti, davanti a uno scivolo per diversamente abili, c'erano diverse auto parcheggiate e non sarebbe la prima volta? Sì, oggi in pratica c'è una riunione ai servizi sociali per la 328. Io sono oltre il presidente dell'Anglat, sono il rappresentante dell'associazione di volontariato del distretto di Caltanissetta. Ebbene, un'ora fa abbiamo cercato di accedere all'edificio ma era pieno di macchine anche ovviamente dove c'è il divieto. Qui lo scivolo era inaccessibile e ho provato a chiamare i vigili, a chiamare i carabinieri per entrare ma non mi è stato consentito. Ora sono arrivati i vigili dopo un'ora e magicamente sono arrivati i proprietari delle macchine a sgomprare. Però dico, questo mi sembra veramente non solo una discriminazione perché non mi permette visto che sono in carrozzina di entrare in un edificio pubblico ma è anche una forma di cattiva educazione delle persone a non rispettare quelli che sono i segni di civiltà e quindi lasciare libero accesso dove ci sono gli scivoli, non posteggiare dove c'è il segnale riservato ai portatori di handicap. E ahimè oggi riscontriamo anche una parte di aggressione verbale da parte dei proprietari delle macchine che quasi si lamentano del fatto che io abbia chiamato i vigili. Cioè veramente dobbiamo essere un pochettino più accorti in questa città se vogliamo vivere e vivere bene e dare dei segnali di cambiamento perché non è possibile che non solo le istituzioni ci attenzionano poco ma anche la cittadinanza non si rende conto che bisogna cambiare, avere un po' di cultura maggiore e attenzione per chi ha bisogno. È un problema che riscontrate solamente nel centro storico o in altre zone della città? No, purtroppo è diffuso ovunque. Noi non riusciamo, con tutto che sensibilizziamo le persone in varie manifestazioni cerchiamo di far capire che la disabilità non è mia perché l'ho voluta, ahimè può capitare a chiunque e i segnali di civiltà sono quelli di rispettare i diritti di ognuno e non discriminare nessuno. Quindi io mi appello veramente a tutti quanti affinché facciano attenzione non solo a rispettare le persone ma rispettare tutta la cittadinanza. Poi io chiedo alle istituzioni fate anche in modo che sia più visibile l'accesso ai portatori di entica perché se badate qui non vi è una buona segnalazione perché c'è il posteggio dei disabili che è messo più avanti ed è in discesa dove è difficile posteggiare e in più questo accesso è poco segnalato anche se le persone dovrebbero capirlo anche da soli.